Nel maggio 1979, Marco Stefanelli, un ragazzo di 17 anni, morì a causa di un incidente stradale. Marco lavorava come cameriere a Finale Ligure. L'incidente avvenne tra Borgio Verezzi e Finale Ligure. Marco era a bordo della sua moto Honda 125 e venne travolto da un motocarro. Fu trasportato d'urgenza all'ospedale San Martino di Genova, ma morì a causa di un grave trauma cranico. Marco viveva a Savona con sua mamma Letizia Butera e con una sorella più piccola. Suo fratello Maurizio era mancato nel 1974 e suo padre morì disperso in mare in data incerta. Vicino a Marco riposano sua mamma Letizia e suo fratello Maurizio. Una preghiera per questa famiglia.